Non si fermano le proteste dei deputati del Movimento 5 Stelle, che dopo gli attacchi dei giorni scorsi hanno abbandonato la Camera durante il dibattito sul decreto carceri. I grillini infatti già da tempo si erano dichiarati contrari all'approvazione del provvedimento. Ma a tenere banco sono ancora una volta gli attacchi rivolti alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, oggetto di numerosi post e commenti offensivi da parte dei seguaci del Movimento. Ultimo in ordine di tempo il tweet di Claudio Messora, responsabile dei rapporti con la stampa. Laura, anche se noi del blog di Grillo fossimo tutti potenziali sopratori, tu non corri nessun rischio. Poco dopo sono arrivate le scuse, ma ormai l'assalto mediatico è partito e non ha risparmiato nemmeno Corrado Augas. Il giornalista infatti, durante il suo intervento alle invasioni barbariche di Daria Bignardi, ha manifestato tutta la sua preoccupazione per la linea seguita dal Movimento 5 Stelle. Anche per la conduttrice sono più vote critiche dal web. La Bignardi sarebbe colpevole di aver fatto domande scomode al debutato Alessandro Di Battista, incalzandolo sul passato fascista del padre. A colpirla con un lungo articolo ci ha pensato Rocco Casalino, ex concorrente del Grande Fratello e oggi responsabile della comunicazione del Movimento. Secondo Casalino, la presentatrice doveva evitare domande così personali e ha poi rilanciato con l'accusa. Se ti chiedessero com'è aver sposato il figlio di un assassino, facendo riferimento al suo matrimonio con Luca Sofri, figlio di Adriano Sofri. Ad entrambi è arrivato l'appoggio del presidente del Consiglio Letta, che ha parlato di barbarie. Anche la Boldrini si è unita al coro, dichiarando la sua solidarietà ai due giornalisti.